Il mistero del ciuccio incantato Oh, Spot! Ti ho detto che i cani buoni non abbaiano di notte! Cosa vedono i miei occhi? Sarà la mia immaginazione! È vero! Non avete idea di quello che mi è successo stanotte! Ero così spaventata che non ho chiuso occhio! Ma scusa, i ciuccifatti di diamanti non esistono! È impossibile! E tantomeno quelli che volano! Magari è stato un sogno! Vi dico di no! L'ho visto uscire dalla finestra! Non è la verità, Spot! È tutto molto sospetto! Forza, Spot! Confessa! Dove è messo il ciuccio di diamanti? Non è stato, Spot! Dotti dice la verità! Sono le fantasy! E a quanto pare sanno qualcosa! Certo che lo sappiamo! Dotti ha avuto un incontro con il ciuccio di diamanti incantato! Vedete? Ve l'ho detto che era così! La leggenda racconta che il ciuccio di diamanti prende vita ogni cento anni! E lui vive un fantasma dispettoso! Sono i cupcakes! Lo spaventano! Un ciuccio incantato? Sembra terribile! Vado a preparare molti cupcakes! Calma! Non c'è niente da temere! Qui c'è un bel mistero! E il detective Cammy sta per risolverlo! Se il fantasma riappare, noi saremo insieme e non avremo nessuna paura! Hmm... Continuo a non credere a una sola parola! I fantasmi non esistono! E ve lo dimostrerò con questo travestimento! Ehi, non dormire! Su, svegliati! Guarda! Ho portato bibite e dolcetti per proteggerci! Grazie, Connie! Ma no! Non sono da mangiare! Sono per spaventare il fantasma! Ma sono così deliziosi che non ho più paura! Dietro di me, vero? Aiuto! Oh, no! Ho portato pari! I miei dolcetti non li spaventano! Sono buonissimi! Ma il fantasma non doveva avere paura dei dolcetti! Ci hanno creduto! E a noi rimangono i dolcetti! Dovevate vedere la faccia di Dotti quando ha visto il ciuccio! Adesso è tutto molto chiaro! Con il trucco dei fantasmi volevano ottenere i dolci di Connie! Gli meritano uno scherzetto! Bene! Vado alla valle a prenderne altro! Sì, per me alla fragola, grazie! E a me al cioccolato! Vado e torno! Adesso! Ecco i altri cupcake! Fantasmi burloni! No, no! No, no! 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 No, no! No! Battute dei cupcakes! Questa sì che è una leggenda! Ci perdonate? Era solo uno scherzo! Prendi! Vi regalo il mio ciuccio di diamanti! Grazie tante! È stato molto divertente! Io adoro investigare! Altri dolcetti? Guarda che bella lacrima blu! Fantasmi meriti! Grazie mille!